Un doppio successo interno all'inglese per 2-0 ed un pare di occhiali che blocca la vice capolista San Benedettese. Per le altre formazioni territoriali dell'otto è questo il copione vissuto nella domenica del 28esimo turno per il girone F della Serie D. Al suo terzo successo consecutivo il Chieti di Luiso riprende pienamente vigore e si porta a tre lunghezze alla zona playoff. All'Angelini c'è l'impronta di Forgione in entrambe le reti con cui i nero-verdi chiudono la contesa con lovinato e driccione nella prima frazione. Apre le marcature Gaia al 18esimo poi affolla al 37esimo a chiudere i conti per quella che è la sua nona rete in campionato. Il termoli dal canto suo con una rete per tempo schianta la resistenza della rivelazione San Nicolò Notarisco su cui si impone per 2-0 a Cannarsa. Un colpo di testa di Hernandez Perez intorno alla mezz'ora del primo tempo sblocca il risultato. Poi nella ripresa al 57esimo Burzio di testa sul rinvio maldestro di Cortosi affossa ogni speranza degli abruzzesi e lancia gli adriatici fuori dalla zona playoff. Infine al Ferrante di Piedimonte Matese con una prova di grande applicazione l'FC Matese di Fevola costringe al pari ad occhiali 0-0 la San Benedettese seconda della classe in una gara in cui nonostante diverse azioni su un fronte e sull'altro nessuna delle due contendenti trova lo spunto giusto per centrare il successo. Grazie a tutti.